Tesla Revolution 2017, siamo qui con Sergio Torre, direttore della sezione Business Development di Duferco. Sergio, stamattina avete presentato molte delle vostre offerte commerciali e dei vostri servizi, ce li puoi riassumere? Certo, l'anno scorso abbiamo introdotto un po' il servizio a livello generale, quest'anno invece abbiamo creato una famiglia di prodotti ad hoc per i green movers. Il servizio di ricarica nazionale è sempre più ampio, il nostro, oggi copriamo più di 100 città con oltre 750 sezioni di ricarica che sono 1.500 punti. È oggettivamente forse il secondo circuito principale a livello nazionale, è l'unico privato e i nostri servizi di ricarica stanno riscoltendo un buon successo, che vuol dire che stiamo lavorando bene. La rete adesso sarà ampliata con il progetto ambiziosissimo della Valle d'Aosta in cui il bando del Ministero ha previsto un progetto di 35 stazioni di ricarica, noi abbiamo vinto l'appalto e ci saranno 88 punti di ricarica installati entro fine marzo. E lì una grossa sfida, i nuovi servizi. Ecco, infatti vuoi raccontarci meglio anche, parlavamo di card, di per esempio pagamento tramite Paypal o una digitalizzazione dei vostri servizi, giusto? Assolutamente sì, lo richiede la normativa europea e lo richiede la nostra volontà di sviluppo e quindi oltre al servizio tramite card classico abbiamo fatto una dematerializzazione della card sul nostro portale web e anche sulla app che sta uscendo nei prossimi mesi, adesso in fase di test. Ci sarà la possibilità di ricaricare anche la singola sessione con Paypal e card di credito, oltre alla ricaricabile su carta e lancieremo anche la ricarica via SMS quindi vogliamo essere sempre più vicini agli utenti di mobilità con strumenti facili ed immediati e aiutarli a ricaricare. Sicuramente questo è un grande aiuto, io ti ringrazio Sergio, do appuntamento al Tesla Revolution 2018, grazie a Duferco e buona continuazione.